Nei mesi dell'esplosione della pandemia da Covid-19 l'ospedale di Giulianova ha garantito i servizi sanitari in sicurezza. In accordo tra primari e task force della ASL sono stati attivati due percorsi differenti, uno per pazienti sospetti Covid e l'altro per coloro che hanno avuto la necessità di ricoverarsi per altre patologie. Stamani il personale alla struttura del Maria Santissima dello Splendore hanno ricevuto la visita del sottosegretario della Regione Abruzzo D'Annuntis accompagnato dal manager della ASL di Giosia e dal sindaco Costantini. In questa fase emergenza tutti si sono combattati bene a partire dai cittadini che hanno rispettato le disposizioni nazionali e regionali per poi passare per gli operatori tutti dal primo all'ultimo che in stangambimenti in questi tre mesi si sono dedicati per la nostra sicurezza. Per la visita di oggi rientro in un ampio quadro di interventi e di iniziative che la giunta regionale sta facendo sul territorio, infatti le settimane scorse c'è stata la visita da parte di altri consiglieri regionali e del Presidente Marsilio ad altre strutture del nostro territorio. Quindi veniamo qui per essere vicini a queste realtà e per ringraziare gli operatori per tutto quello che hanno fatto e che faranno in seguito. Era importante far sentire la presenza che da direzione, che siamo vicini a tutti gli operatori e che lavoriamo al loro fianco. Volevo ringraziare l'ospedale Giulianova che ha dato la possibilità nel padiglione est appunto di ricoverare delle persone che dovevano essere attenzionate prima dell'accertamento dell'esto del tampone al fine di salvaguardare l'integrità dei presidi gli ospedalieri da eventuali contagi. Tutti sono stati disponibili e come possiamo dire hanno capito il senso e la responsabilità che ognuno deve mettere in campo in questo momento, ne siamo fieri e questa è la ASL grazie all'ospedale Giulianova, grazie a tutti gli operatori, i medici, infermieri, operatori sanitari che hanno lavorato e si sono praticati per l'attività dell'azienda.